bentornati sul mio canale questo è il corso di fotografia digitale siamo alla 56esima lezione oggi come promesso faremo la pratica su come utilizzare diversi flash in contemporanea quindi sappiamo che l'aggiunta di un secondo flash esterno aumenta le possibilità di illuminazione del soggetto che andiamo a fotografare quando usiamo più fonti luminose flash o luci da studio una sarà la luce principale l'altra sarà quella di riempimento che serve a controllare il livello di contrasto risultando particolarmente utile per ritratti in studio maggiore la differenza tra le fonti di luce maggiore sarà il contrasto risultante nell'immagine il modo più semplice per variare la luminosità relativa dei due flash consiste nel variarne la potenza in modalità manuale quindi come prima cosa dovremo posizionare i flash i due flash ai lati del soggetto alla stessa distanza e all'altezza della testa di quest'ultimo per un ritratto verticale bisogna inclinarli in modo che le teste del flash siano in verticale dopodichè dovremo regolarne l'esposizione cioè selezionare la modalità manuale e impostare la velocità dell'otturatore per ridurre l'influsso della luce ambientale dobbiamo impostare la velocità di sincronizzazione e quindi impostare un'apertura media tra f5,6 o f8 dopodichè dovremo impostare il flash sul manuale selezionando la modalità manuale su entrambi i flash scegliamo quale sarà la luce principale e quale è la luce di riempimento dopodichè sceglieremo il rapporto di potenza quindi impostiamo il flash principale a un mezzo di potenza e quello di riempimento a un ottavo per ottenere quindi un rapporto di 4 a 1 che poi vedremo nelle prossime slide fatto ciò andremo a scattare a fare uno scatto di prova quindi controlliamo la foto e volutiamo l'esposizione se vogliamo modificarla ne aumentiamo o diminuiamo la potenza dei flash dello stesso valore su entrambi quindi cambiamo il rapporto di potenza se necessario quindi scattiamo varie foto cambiando la differenza di potenza tra i due flash per valutare quale combinazione funziona meglio per aumentare la luminosità aumentiamo la potenza del flash di riempimento per diminuirla ne aumenteremo il contrasto qui in queste tre slide ho estremizzato la cosa proprio per far capire cosa si intende tra i rapporti di potenza tra i due flash quindi in quella 1 a 1 che vediamo qua a sinistra arriva uguale potenza di luce nelle due facce diciamo tra i due lati nel rapporto di potenza 2 a 1 significa che il flash di sinistra quindi dalla parte del 2 per intenderci risulta più potente quindi il doppio del flash di destra mentre nell'ultima foto vediamo che il rapporto 4 a 1 significa che il flash di destra sarà 4 volte meno potente di quello di sinistra quindi vediamo la differenza tra le due facce tra le due parti del soggetto come già detto vediamo la linea netta io ho voluto estremizzare la cosa proprio per far capire la differenza del rapporto tra i due flash esterni il rapporto di potenza è costituito dalla differenza di luminosità tra due fonti di luce quindi quando non c'è differenza il rapporto è di 1 a 1 e produce una luce uniforme sul volte del soggetto in relazione agli f stop una differenza di uno stop genera un rapporto di 2 a 1 per i ritratti una differenza di due stop cioè un rapporto di 4 a 1 rappresenta un buon punto di partenza anche per questa lezione è tutto molto breve vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanella se volete essere aggiornati sui miei prossimi video vi ricordo che ogni tanto faccio degli esperimenti qui nel mio studio dove spiego ciò che vado a fotografare e che tecnica utilizzo nella prossima lezione vedremo come modificare il colore dei flash con le gelatine grazie per avermi seguito ci vediamo alla prossima lezione ciao 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 Grazie a tutti.